Ho venuto a proiettare questo film perché ricostruisce fin dall'infanzia la vita di Vittorio Bachelet e soprattutto sottolinea particolarmente la sua presenza pubblica e poi anche il suo martirio. La riflessione che noi facciamo invece è più legata all'azione di Bachelet all'interno della vita della Chiesa sulla scia del rinnovamento conciliare e quindi il riferimento è anche alla nuova azione cattolica di cui lui è il massimo dei protagonisti. I 15 anni che vedono Vittorio Bachelet ai vertici dell'azione cattolica rappresentano un momento di straordinaria rifondazione dei modi con cui comprendere e vivere l'essere laici nella Chiesa e nel mondo ponendo attenzione alle variazioni provocate dal mutare dei tempi. In questa trasformazione l'agire di Bachelet risultò in diversi passaggi decisivo nel guidare con tranquilla sicurezza un'associazione azione cattolica grande e popolare ma pure molto appesantita dal suo passato più recente. Quindi guidandola dentro i percorsi di modificazione che il Concilio Vaticano II aveva provocato in tutti i campi della vita della Chiesa compreso naturalmente quello assolutamente fondamentale dell'essere e dell'agire dei cristiani comuni. Quando viene dato a sorpresa l'annuncio della convocazione del Concilio da Papa Giovanni il 25 gennaio del 59 l'azione cattolica non è così florida come i dati numerici potrebbero far pensare. La sua struttura educativa che pure aveva avuto molti meriti nei decenni precedenti pareva trascinarsi con fatica nel quadro di una realtà italiana in vorticoso mutamento. Le risposte ai nuovi modelli di vita propri di una società capitalistica in espansione tardavano a venire e i timidi tentativi di ricentrare il cammino associativo sui valori spirituali incarnati erano stati bloccati nell'azione cattolica di Luigi Gedda per paura delle novità. Luigi Gedda è il presidente che, se viste in un'immagine del filmato, aveva dato vita ai comitati civici era un'azione cattolica che si era fortemente sbilanciata sul versante politico a sostegno appunto della democrazia cristiana, quel collateralismo tra Chiesa e partito di ispirazione cristiana in funzione anticomunista. Bachelet comincia il suo impegno in azione cattolica prefigurando la possibilità di modifiche negli orientamenti e nel concreto agire dell'associazione. E in colloqui con Giovanni XXIII prova a disegnare nuove forme di animazioni meno coincidenti con ruoli di una supplenza politica, con un forte impegno per offrire una maggiore formazione culturale e spirituale a tutti i soci, quindi con un chiaro distacco dal mito della moltiplicazione delle tessere. Così in una relazione del 63, Bachelet è vicepresidente dell'azione cattolica, la relazione aveva come titolo le tre condizioni di vita dell'azione cattolica. E ecco che già si manifesta appunto il cambiamento di prospettive che egli intende innescare nell'associazione. Cito L'efficacia più penetrante per un rinnovamento cristiano della società è ancora la nostra preghiera, il nostro sacrificio, la nostra collaborazione attenta, disciplinata, responsabile all'azione evangelizzatrice e santificatrice della Chiesa. E in fondo ciò che caratterizza in questo campo l'azione nostra rispetto a quelle di altra organizzazione di ispirazione cristiana deve essere proprio il più chiaro, il più immediato porsi in questa prospettiva autenticamente religiosa, che non significa disinteresse per i problemi della società umana, ma sforzo di comprenderli, di aiutarne la soluzione con un desiderio essenziale di animazione cristiana. Ad altre forze, ad altre organizzazioni, che pure si ispirano ai nostri ideali, spetta tradurli in soluzioni via via più concrete e perciò stesso molte volte anche assai opinabili nelle istituzioni culturali, amministrative, economiche, sindacali, politiche della nostra società. Chiudo. Ecco, Bachelet allora segna una linea di demarcazione sufficientemente netta tra l'azione politica e l'animazione pastorale. Chiede all'azione cattolica di incarnare una prospettiva autenticamente religiosa, che significa l'allontanamento dai formalismi e la ripresa della cura formativa. Con uno slogan si diceva, bisogna tornare al primato di Maria su Marta. Nel Concilio convergono i molti percorsi di ricalibratura liturgica, biblica, teologica, ecumenica presenti nelle comunità, magari in piccoli gruppi dagli inizi del secolo scorso. Vengono messi a tacere i profeti di sventura, scompaiono molte delle tensioni che avevano caratterizzato lo scontro della Chiesa con la cultura contemporanea. La Chiesa si pone in spirito di dialogo, anzi di ascolto. Ascolta le attese del mondo, intende le nire e le ferite, accompagna sulla soglia dell'agire storico le immense moltitudini dei popoli che premono dai continenti in via di sviluppo. La Chiesa guarda a sé stessa per ritrovare le ragioni del proprio esistere nella parola di Dio. È questa rivelazione che ridisegna i contorni, individua e dà valore ai carismi, chiede di venire narrata nella molteplicità dell'essere e dell'agire del popolo di Dio. I padri conciliari imparano e invitano a guardare ai segni dei tempi. È lo stile di una comunità cristiana che si rinnova, che vuole riannodare fili e non spezzare percorsi positivi. Le quattro sessioni conciliari, lo sappiamo, scandiscono questo inizio degli anni Sessanta negli autunni dal Sessantadue al Sessantacinque. In mezzo vi è pure il cambio di guida al vertice della Chiesa con la morte di Giovanni XXIII nella primavera del Sessantatré e l'avvio del pontificato di Papa Paolo VI. Proprio Paolo VI, che dal 25 al 33 era stato assistente e animatore della FUCI, chiama nel 1964 Bachelet a guidare l'azione cattolica in qualità di presidente. Di poco precedente è la nomina di un nuovo assistente nazionale, una grande figura, Monsignor Franco Costa, anche egli ex assistente della Federazione Universitaria Cattolici Italiani, la FUCI. Già con la sua prima dichiarazione pubblica Bachelet fa intendere il disegno che lo avrebbe accompagnato nel tempo della sua presidenza. Sentite questo messaggio televisivo. Cito. L'azione cattolica vorrebbe aiutare gli italiani ad amare Dio e amare gli uomini. Vorrebbe essere un semplice strumento attraverso il quale i cattolici siano aiutati a vivere integralmente e responsabilmente la vita della Chiesa e insieme a vivere con rispettoso impegno cristiano la vita della comunità temporale e della convivenza civile. L'azione cattolica, nel clima del Concilio Ecumenico Vaticano II e sotto la guida di Paolo VI, che ad essa ha rinnovato la fiducia del Supremo Magistero della Chiesa, cercherà la forza più pura delle sue tradizioni per rinnovare se stessa e per servire sempre meglio la Chiesa e la società. Chiudo. L'obiettivo parve quindi quasi subito quello di sintonizzare attese e sensibilità della più grande associazione di cattolici in Italia con lo spirito del Vaticano II. Bachelet parlò non a caso di un necessario rinnovamento perché egli si rendeva ben conto che la Chiesa sarebbe potuta diventare poco più che un ingombrante rottame dell'epoca che si stava chiudendo. Quindi Bachelet poteva rischiare di essere l'ultimo presidente di un'azione cattolica che aveva in qualche modo raggiunto il suo culmine e si era andato in frantumi con il vento del concilio. Oppure poteva dimostrare che proprio in un'organizzazione così ampia si giocavano le sorti del postconcilio in Italia. Egli cominciò quindi un intensissimo lavoro di ricostruzione del quadro di riferimento ideale per l'associazione e scelse come spazio privilegiato di confronto gli annuali incontri con i presidenti diocesani che sotto la sua presidenza assunsero via via un ruolo centrale per l'opera di rifondazione della azione cattolica. Bachelet rivendica per la nuova azione cattolica una dominante ispirazione e prospettiva religiosa e domanda in più punti di cambiare il modo con cui si guarda alla realtà concreta. Bisogna infatti educare ad una costante attenzione alla realtà per vedere e giudicare prima di agire. E occorre un metodo positivo che richiama un po' la pedagogia positiva di Paolo VI. Cito Guardate alla realtà della Chiesa e del mondo non solo per piangere sulla tristezza dei tempi ma anche per scoprire le speranze di arricchimento e le possibilità di bene su cui costruire un avvenire migliore. Guardate alla realtà del mondo non solo per elevare proteste più o meno vibrate, anche queste talora necessarie ovviamente, ma per vedere con quali mattoni si possa costruire una casa migliore. Non solo per correre a spegnere a ogni piesso spinto la casa che bruciava ma per costruire case nuove, non più di paglia che prendono fuoco ad ogni alitare di vento ma solidamente in cemento armato. Chiusa la citazione Emerge quindi la grande compassione con cui Bachelet viveva i suoi giorni una compassione che con forza voleva far sperimentare alla sua azione cattolica Abbandonando quel bagaglio controversistico che risaliva all'intransigentismo dell'Ottocento Cito ancora di Bachelet Noi dovremmo imparare a conoscere meglio questo nostro tempo a scoprirne le attese di bene, anche le ferite, anche le infezioni per poter meglio comunicare ad essi i frutti e la ricchezza del Concilio Questo nostro tempo non è meno ricco di generosità, di bontà, di senso religioso, di santità persino di quanto non lo fossero altri tempi passati Questo nostro tempo non è meno povero degli altri per le infedeltà, le immoralità nella vita morale privata e pubblica in quella personale, in quella amministrativa la irreligiosità e anzi la lotta alla religione e a Dio stesso Tempo, questo nostro, composito come l'animo dell'uomo composito come ogni società umana ma più complesso che mai per l'intersecarsi di mentalità, di culture, di ideologie, di costumi diversi che è caratteristico della vita del mondo di oggi Una sua caratteristica è forse la sproporzione fra la crescita del potere dell'uomo la tecnica, la scienza, la cultura, le armi, i mezzi di comunicazione, i satelliti e la crescita autentica del suo spirito Così che l'uomo che superbamente pensava ancora una volta di farsi Dio dominando la Terra e magari il Cosmo si trova ogni giorno sotto il dominio pauroso delle cose di quel bottone che potrebbe scatenare magari per un malinteso la rovina, la distruzione dell'umanità Ma è proprio qui che il rinnovamento spirituale e un nuovo slancio della cristianità possono dare agli uomini di oggi quella ricchezza religiosa che sola lo fa crescere compiutamente perché dà all'uomo tutta la sua dignità ma nel giusto rapporto con Dio creatore e perciò con tutti i fratelli Chiusa questa lunga citazione in cui però traspare questa fiducia positiva Questo è il nostro tempo Questo è il nostro kairos favorevole in cui noi dobbiamo annunciare e testimoniare la nostra fede cristiana e vivere la nostra cittadinanza nella storia L'8 dicembre 65 il Concilio terminò Si apriva quindi subito per tutta la Chiesa universale la tormentata fase della sua ricezione e applicazione e non solo in Italia acquisterà caratteristiche particolari lo scontro tra tradizionalisti e innovatori Tra posizioni discordanti si rischiò molto concretamente di non far fare nessun passo avanti alle comunità cristiane al vasto mondo del laicato cattolico che pure aveva guardato con speranza sempre crescente l'opera di rinnovamento posta in atto dal Concilio L'azione cattolica si apprestava ad affrontare il postconcilio fortificata certamente dall'attenzione a essa dedicata dal decreto sull'apostolato dei laici Il numero 20 indicava appunto le quattro note di apostolica matuositatem le quattro note caratteristiche dell'azione cattolica e dalla storia delle sue articolazioni molte delle quali avevano contribuito fin dai primi decenni del secolo al diffondersi in campo liturgico, teologico, catechetico simili a quanto ora si ritrovava nel quadro pastorale disegnato dal Concilio Ma tutto questo non garantiva necessariamente la prosecuzione secondo la forma sino a quel punto avuta Era soprattutto la riflessione sul significato e la realtà del popolo di Dio a mettere in forse l'utilità dell'azione cattolica Se tutti, come dice il capitolo secondo di Lumen Gentium sono chiamati in quanto credenti a vivere la propria missione evangelizzatrice nel mondo quale senso poteva avere ancora un organismo che era stato chiamato a organizzare il laicato cattolico italiano? Ci furono molte voci che si levarono per chiedere la conclusione della parabola storica dell'azione cattolica a quel punto forse sentita più come impedimento che come sostegno al cammino della Chiesa italiana nel postconcilio Ecco, Bachelet seppe affrontare questo intricato passaggio in modo singolarmente coraggioso egli certo non aveva atteso l'affiorare delle novità del concilio per porre l'azione cattolica in stato di verifica e la ricalibratura interna era già in qualche modo iniziata prese comunque molto sul serio la messa in discussione dell'associazione riuscendo a individuare un percorso nuovo che fosse però innestato sulle tradizioni precedenti l'operazione da lui compiuta si rivelerà di proporzioni assai vaste e quando vi pose mano non c'era garanzia appunto di successo cito adesso che cosa farà l'azione cattolica italiana? è una domanda che ci sentiamo ripetere spesso da amici di vecchia data che hanno lavorato e lavorano nell'azione cattolica e vorrebbero intravedere come dopo questo concilio che così fortemente ha sottolineato la responsabilità di tutti i cristiani e in specie anche dei laici nella vita e nella missione della Chiesa l'azione cattolica saprà essere la via maestra per professare adesione alla Chiesa per alimentare in se stessa la pienezza del suo impegno del suo impegnativo significato il sensus ecclesie e per offrirle una testimonianza e una collaborazione che sia generosa costante vasta quanto la missione della Chiesa e prosegue è anche una domanda che ci ripete qualche amico stanco sfiduciato qualche sacerdote che pur ha dedicato le sue energie migliori alla cura spirituale delle nostre associazioni ma che sembra ripetere con amarezza abbiamo gettato le reti tutta la notte ma in vano è una domanda che qualche altro amico ci pone in termini ancora più problematici quasi lasciando intendere che l'azione cattolica non saprà uscire dal bagaglio delle sue pur nobili tradizioni delle sue già utili ma ora appesantite strutture dall'impaccio stesso della sua vasta e complessa organizzazione per corrispondere con la necessaria franchezza con l'indispensabile libertà di spirito con il dinamismo interiore e pratico e con la generosità di dedizione che sono necessari per accogliere e attuare l'insegnamento del concilio chiudo la citazione Bachelet però esprime fiducia per l'immediato futuro perché se la C è un organismo vivo essa deve essere capace di rinnovarsi perché ciascun organismo vivo è ogni giorno nuovo dunque l'azione cattolica può rinnovarsi ma ci si chiede in quale direzione è lo stesso Bachelet che dice cito ora mi sembra evidente che se qualche incertezza vi è stata questa è stata risolta proprio dall'insegnamento e dal programma del concilio esso offre ai laici un impegno globale nella vita della Chiesa che non si limita alla testimonianza nella società e nella vita temporale ma che partecipa alla costruzione stessa della vita della Chiesa nella sua santità e nella sua unità è corresponsabile della sua missione di evangelizzazione e santificazione e ha una caratterizzazione particolare ma non esclusiva nell'animazione cristiana della società e lo straordinario impegno di studio assimilazione diffusione spiegazione attuazione dei decreti e degli indirizzi del concilio per una crescita nuova della vita delle Chiese è un compito tale e così globale da offrire alla C un alimento nuovo nella propria prospettiva che le consente di compiere la sua grande missione senza rimpianti o gelosie di ciò che altri fa nel proprio campo chiusa la citazione il compito ritrovato e indicato con estrema chiarezza è dunque quello di incarnare la profezia del Vaticano II nel vasto e complesso tessuto ecclesiale italiano Bachelet lega così l'esistenza stessa dell'azione cattolica alla possibilità di offrirsi come un laboratorio avanzato con un'articolazione capillarmente innervata nel territorio per la costruzione di una comunità cristiana che sia capace sul serio di accogliere la novità del concilio tutto l'insegnamento che da esso deriva senza letture che siano parziali o riduttive e si badi la C in questo modo sembra ritrovare forza nella sua più genuina tradizione terminato ogni residuo ruolo di supplenza nell'ambito sociale essa accoglierebbe un alimento nuovo nella propria prospettiva nell'impegno per sostenere il corretto svilupparsi di una chiesa conciliare e allora ecco un'altra citazione il carisma proprio della C va sviluppato secondo un insegnamento del concilio che nelle sue prospettive di slancio pastorale offre l'occasione per ridare ai nostri laici un effettivo senso ed esercizio di responsabilità che negli ultimi anni erano andati un po' perdendo quantomeno a livello parrocchiale ciò richiede uno sforzo di formazione più solido adeguato a questa responsabilità ma richiederà anche nell'assistente ecclesiastico e nel parroco la capacità di saper riconoscere affidare effettivamente questa responsabilità ai laici perché la responsabilità come virtù si acquista anche con l'esercizio e perché altrimenti i laici continueranno a sentirsi responsabili della vita civile politica sindacale professionale e turisti o spettatori nella vita della parrocchia e della stessa ci e ciò sarebbe esattamente il contrario di quello che ha voluto il concilio allora in questa prospettiva appare rilevante la relazione che Bachelet tenne dal titolo rinnovare l'azione cattolica per attuare il concilio essa ha andamento particolarmente solenne si presenta come la più ampia fra quelle pronunciate nei tre mandati presidenziali che egli svolse forte è il richiamo che riecheggia in tutte le pagine per dire singolarmente come associazione per dirsi disponibili nell'attuazione di tutto il concilio senza riduzione in debite cominciando da uno studio serio di tutto il materiale che è stato prodotto dai padri conciliari dei documenti e delle costituzioni e del concilio del suo modo di porre la chiesa di fronte ai cambiamenti dalla sua dottrina specifica sull'apostolato dei laici Bachelet scriverà appunto alcuni contributi proprio sull'apostolato dei laici propone una intensa elaborazione che occupa più di metà del testo di questo intervento solo nella seconda parte si ridisegna il volto dell'associazione dicendo l'azione cattolica ha perciò come suo fine proprio lo stesso fine apostolico della chiesa il suo primo compito è quello di suscitare nei suoi soci in tutti i cristiani la consapevolezza della propria vocazione all'apostolato che non è il fare un certo numero di pratiche o attività o discorsi ma essenzialmente partecipare come membra attiva all'edificazione e alla crescita del corpo di Cristo che è la chiesa partecipando perciò stesso nel modo che è proprio dei laici alla sua missione di salvezza per questo l'ampiezza dell'apostolato della C può essere indicato in tre grandi direttive o meglio in tre dimensioni essere scuola di vita spirituale di maturità cristiana collaborare all'azione pastorale contribuire all'animazione cristiana della società non manca poi un richiamo assai forte nella forma ma la necessità di operare in modo unitario cui è correlata una possibilità di mutamento delle strutture organizzative perché la C aveva appunto il ramo degli uomini delle donne la Giacca la GF poi c'erano i laureati cattolici e tutti questi rami rivendicavano una forte una forte autonomia e Bachelet è preoccupato appunto di restituire una forte unità una forte compattezza di indirizzo all'associazione quindi nel triennio che va dal 67 al 70 egli guidò l'associazione a ridisegnare dalle fondamenta il proprio impianto strutturale con la revisione dello statuto che ebbe come data l'abbiamo sentito il primo novembre del 69 festa di tutti i santi questa data segna l'inizio della nuova azione cattolica più agile nelle forme con due soli settori gli adulti e i giovani e un'articolazione per i ragazzi unitaria nella proposta complessiva con i responsabili eletti democraticamente questa è una delle caratteristiche tipiche dell'associazione che recepisce nell'impianto ideale tutte le ricchezze maturate nel tempo del concilio e del postconcilio a Bachelet piacque vedere questo cammino all'interno di un più ampio processo di conversione e la C dobbiamo riconoscerlo si era davvero convertita abbandonando tutte quelle sicurezze che l'avevano portata a essere strumento principale dell'apostolato di conquista per porsi ora in dialogo e a servizio della Chiesa e degli uomini del suo tempo di proporzioni difficilmente misurabile è l'apporto dato in questi anni al cammino pastorale dell'episcopato italiano anch'esso alle prese con le contraddizioni del postconcilio e con i mutamenti della società italiana in quegli anni Bachelet tenne diversi interventi alle assemblee della CEI che da poco aveva provveduto appunto a darsi una forma più strutturata dopo il concilio e anche con un impegno profuso per dare vita al travagliato ITER al nuovo quotidiano dei cattolici italiani l'avvenire che voi sapete è frutto appunto dell'unione di due testate quella ambrosiana l'Italia e quella che invece appunto c'era nel resto del paese l'avvenire d'Italia il nome del quotidiano lo conosciamo è l'avvenire quando la mattina del 25 settembre del 70 Bachelet apre la prima assemblea nazionale dell'azione cattolica rifondata dal nuovo statuto poteva in qualche modo essere orgoglioso di questo itinerario percorso e raggiunto il tono che acquista è certamente solenne cito nel nome del Signore nell'adorazione del suo mistero diamo inizio a una fase nuova della vita della nostra associazione con questa prima assemblea convocata a norma del nuovo statuto della C nel ministero trinitario di Dio hanno radice e termine la storia della salvezza e la vita della Chiesa e adesso deve riferirsi ogni iniziativa che nella Chiesa vive che intenda dare per la sua parte il suo contributo alla costruzione della Chiesa e della sua missione tra gli uomini la Chiesa aveva sperimentato forti tensioni forte lacerazioni che qualcuno metteva così in qualche modo a torto come responsabilità dell'ansia di novità prodotta dal Concilio Vaticano II c'era nell'aria il fastidio per le forme associate troppe organizzate e sembrava irrimediabilmente venuta l'ora dei gruppi spontanei dei movimenti dalla base che in qualche modo finivano per archiviare l'esperienza gloriosa dell'azione cattolica ormai una struttura così si diceva troppo faraginosa troppo un'armata ormai in disuso anche la Fucci aveva abolito la tessera cosa che Bachelet non aveva certo gradito veniva meno il senso dell'adesione e in quel periodo calava anche il numero dei preti e dei religiosi nella Chiesa furono molti appunto i religiosi e i chierici che lasciarono l'abito calava o forse era ancora accertato con maggior rigore il numero dei praticanti e anche la C aveva conosciuto il crollo delle adesioni in un solo decennio da oltre tre milioni lo diceva il filmato a poco più di un milione e mezzo ma probabilmente c'era anche da dire che qualcuno era iscritto all'azione cattolica dal parroco senza neanche sapere di esserlo ecco Bachelet aveva a cuore che pur nella inevitabile riduzione numerica l'azione cattolica restasse tuttavia un'associazione di popolo e non diventasse un'associazione elitaria e quando Paolo VI accolse i delegati con un discorso intenso di incoraggiamento tracciò quasi un'apologia dell'azione cattolica sottolineando con stile dialogico e fraterno il coraggio di aver fatto col nuovo statuto anche delle scelte controcorrente al Papa Bachelet aveva rivolto un indirizzo di saluto che appunto per il tono il contenuto dello spirito costituisce uno dei momenti più alti della storia della C di quegli anni e che molto spiega del modo in cui egli viveva la fraternità nella Chiesa e immaginava l'obbedienza all'autorità dei pastori noi desideriamo anche dire a voi Santo Padre il nostro affetto gioioso e fedele è vero che se qualcuno fra noi per avventura volesse seguire l'esempio di alcuni dei primi soci della nostra associazione che cento anni fa per dimostrare tale affettuosa fedeltà si arruolarono negli zuavi pontifici non non troverebbe più presso di voi corpi armati nei quali dare questo tipo di testimonianza ma non è meno sicuro l'affetto dei figli che oggi vi sono vicini e sono pronti a dare il loro contributo nel modo nel quale voi volete che vi sia aiutato il vostro spirituale servizio apostolico noi vi siamo vicini Padre Santo con l'affettuosa e sola fiducia di cui parlava Don Mazzolari quando diceva il Papa ha bisogno di figlioli che gli vogliono bene alla buona l'unica maniera per volere bene veramente che gli obbediscano in piedi e che in piedi gli diano una mano a portare la grossa croce che ha sul cuore e sulle spalle ecco questa frase di obbedire in piedi io la ricordo presente sulla bocca del professor Lazzati a Milano l'assemblea che era la prima assemblea del nuovo statuto siamo nel 70 visse un altro momento significativo quando prese la parola Carlo Carretto che era stato presidente della JAG negli anni dell'onnipotenza e che era poi divenuto monaco anche in polemica con la Cigeddiana al seguito di padre de Foucault prima Carretto aveva vissuto nel deserto africano poi in Sardegna infine si era stabilito a Spello dove tuttora riposa appunto nel cimitero della casa di Spello egli aveva alimentato della sua spiritualità rinnovata il cammino della Chiesa italiana e tutti coloro che in quell'occasione lo ascoltavano di quella spiritualità erano in qualche modo figli fu capace di esortarli con parole di speranza e con l'invito a vigilare che Dio dia davvero all'azione cattolica questa possibilità contemplativa che è l'unica maniera di resistere in questa notte la C con quell'appuntamento si apriva al domani senza rinnegare la parte più feconda della sua tradizione Bachelet dobbiamo riconoscerlo aveva saputo con un straordinario impegno profuso portare a termine il rinnovamento di questa struttura associativa e appunto inevitabile fu l'acclamazione che i delegati presenti fecero di lui come primo presidente della nuova azione cattolica io terminerai qui questa prima parte c'è poi anzitutto la necessità di un break ma poi o facciamo subito le domande oppure potrei fare la ripresa sul tema della scelta religiosa che è davvero la nota qualificante appunto del nuovo statuto e della nuova presenza dell'azione cattolica nella fase del postconcilio e che è ancora una nota qualificante di questa associazione per l'oggi di questa